N come NBA La NBA è la National Basketball Association dove militano i migliori giocatori del mondo come Lebron James, Stephen Curry o Derrick Rose dove tutti i ragazzi giovani sperano di giocare per tutta la vita e qui ha giocato il miglior giocatore di basket di tutto il mondo e di tutti i tempi ovvero Michael Jordan che ha fatto la storia della palacanesto degli anni 80 e degli anni 90. In Serie A si incontrano diversi giocatori che hanno militato nella NBA come Marshall Brooks o Linus Glades di Milano oppure come Dequan Jones e lo stesso Tony Mitchell. Io e Tony non abbiamo mai parlato dell'esperienza della NBA però come tutti i giovani sono cresciuto con i video di Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e giocatori più recenti come Tim Duncan, Kevin Durant o Lebron James. In Europa non ci sono squadre che militano nella NBA però c'è ovviamente il torneo più prestigioso che è l'Eurolega dove giocano le migliori squadre d'Europa come in Italia ci gioca Milano, come può essere Barcellona, Real Madrid, Partizan Belgrado, Fenerbahce, Olimpia Cosse. La mia squadra preferita della NBA è Cleveland Cavaliers, l'anno scorso era Miami perché il mio giocatore preferito è Lebron James ma non nego che mi ispiro molto a Jamal Crawford dei Los Angeles Clippers. La mia squadra è la mia squadra è la mia squadra è la mia squadra.